Il premio letterario Galeazzo di Tarsia è giunto alla ventionesima edizione. Il tema di quest'anno ci riporta in Calabria. Infatti tratta di Nicola Misasi, tra meridionalismo e berismo. Perché nel 2023 cade il centenario della morte di Nicola Misasi. Quindi la Proloco ha voluto rivalutare questo scrittore che tanto ha scritto della sua Calabria. Pur avendo vissuto a lungo, fuori, lontano dalla sua terra, l'ha cantata. Perché qualcuno l'ha definito un cantore della Calabria. Soprattutto la Sila l'ha descritta nei minimi particolari. E quindi noi abbiamo ritenuto come Proloco di dare voce a questo scrittore. Dare voce, lui ormai non c'è più, ma dare voce attraverso i suoi scritti ad un poeta che è stato in qualche modo dimenticato. Parlo di poeta e non descrittore perché le sue descrizioni sono veramente poetiche e fanno immaginare quello che lui vuole descrivere della sua terra.